Buona prestazione della Sunese che vince 4-1 contro il Dirtus Villa Dossola. Al sesto minuto Msequa si accentra e scarica per Ciavarella, che trova Marcolli tutto solinario e senza problemi porta in vantaggio la Sunese. Al diciassettesimo brutto errore della Sunese che regala palla a Mercurio, il quale serve Butro che è bravo a superare Depentor. Al trentesimo bella punizione di Carginale che calcia razoterra e beffa Depani sul suo palo. Nel secondo tempo, al ventiduesimo, Marcolli in contropiede lascia partire un razoterra da fuori aria che non lascia scampo Depani. Al trentesimo, Eurogoldi Ciavarella che dalla distanza lascia partire un gran tiro che si infila sotto il set.